Noi scendiamo in campo per vincere ogni partita, questa partita l'abbiamo preparata bene come le altre, abbiamo preso fiducia da quello che si è visto di positivo nelle scorse partite, abbiamo avuto due giorni in più di lavoro essendoci radunati venerdì per preparare questa partita, siamo pronti, ci siamo concentrati tanto sul nostro lavoro, abbiamo studiato l'avversario, sappiamo cosa ci aspetta, il campo sarà asciutto per cui ci aspettiamo un gioco veloce da parte loro, vogliamo essere dominanti nelle fasi statiche e quindi abbiamo ben chiaro cosa vogliamo fare, è stata un partita un po' sfortunata, dettata dagli episodi, comunque la partita in casa contro l'Inghilterra è stata un po' influenzata dal tempo, quindi anche lì non è che abbiamo potuto visionare, guardare tante cose, soprattutto per quanto riguarda la rimessa laterale, però sappiamo cosa ci aspettano, giocatori e individualità molto importanti, vorranno metterci sotto pressione con il contraattacco, noi siamo pronti a questo e ripeto ci siamo concentrati molto sul nostro lavoro, sul percorso iniziato ormai un mese fa e questa settimana è stata molto positiva e siamo ben concentrati e vogliosi di vincere domani. Vogliamo entrare per formare per 80 minuti, vogliamo rimanere molto vicini con il punteggio per mettere sotto pressione, abbiamo un piano per qualunque situazione, sappiamo cosa ci aspetta, abbiamo ben studiato l'avversario, ripeto, ma soprattutto il nostro piano di gioco e come vorremmo metterlo in atto, sappiamo quello che dobbiamo fare, l'attitudine domani sarà fondamentale, giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, alle nostre famiglie, per cui l'emozione sarà tanta e dovremo gestire momento dopo momento per alla fine arrivare alla vittoria finale. Senz'altro anche la Scozia deve vincere, come noi, e sarà dettata dagli episodi, quindi gli errori arriveranno, probabilmente, forse, non so, subiremo una meta, ma è la reazione che avremo dopo quella, come ci ritroveremo, ripeto, abbiamo un piano per ogni cosa, siamo ben concentrati, ci siamo suddivisi tutti i compiti per riuscire a reagire ad ogni situazione, e sappiamo come andare a affrontare questa squadra, quali sono i punti chiave nostri e quali sono, secondo noi, i punti chiave loro sui quali vorranno attaccarci, quindi la partita è stata preparata perfettamente, giochiamo in casa, ripeto, davanti alle nostre famiglie, ai nostri tifosi, per la prima volta, una bellissima giornata in uno stadio come l'Olimpico, in casa nostra, per cui, se non siamo felici e contenti di questo... Grazie a tutti!